È venuta fuori una partita che non immaginavo, nel senso che da una parte c'era una squadra che chiaramente aveva bisogno dei due punti e l'avrebbe giocata con un grande livello di intensità, dall'altra parte c'eravamo noi che eravamo vogliosi di tornare a vincere e vogliosi di tirar fuori tutta l'energia che potevamo avere dentro una giornata come quella di oggi dove avevamo operato la partita con mezzo all'anno lento l'altra sera ed eravamo riduci da due viaggi importanti per cui ho chiesto ai ragazzi una prova di orgoglio, di cuore che hanno fatto tutto quello che avevano ho cercato di allungare il più possibile le rotazioni anche un po' in vista di mercoledì alla fine detto dalla parte vera che si è andata a decidere sui dettagli, sui particolari la cosa che mi fa piacere è che anche la stazione di stanchezza siamo riusciti a tenere la manola nell'ultimo quarto a 9 punti alternando sempre difese aggressive che fosse la zona che fosse l'uomo tirando fuori grande sacrificio voglia da parte di tutti per cui complimenti ai miei ragazzi come avevo detto nel pre partita è una squadra che comunque non ci ha mai deluso dal punto di vista del cuore e degli attributi anche stasera ha dimostrato in un campo molto difficile contro la squadra di qualità Fede, partiamo dall'inizio, cioè il quintetto con Senzabel, con Dercore, con Light, attaccato a Johnson-Hogon era che hai pensato molti giorni oppure sono delle scelte obbligate? No, come avevo detto il mio mestiere è quello di provare a fare in modo di consentire alla squadra di avere sempre la possibilità ogni singolo giocatore di dare il 100% suo e soprattutto di dare alla squadra sempre un po' di benzina a livello di margini di crescita che ci possono essere, che ci possono stare ero curioso di vedere questo tipo di assetto collessi da playmaker era una situazione che mi interessava per ragionarci sopra, per avere la possibilità di avere tanti esterni tanti piccoli che potessero andare a marcare non soltanto Odo ma anche Tarnel che è un giocatore molto importante per loro, questa cosa secondo me è stata molto importante perché comunque loro hanno fatto 9 punti nel quarto quarto, il secondo tempo alla fine è diventato un secondo tempo da 30 punti ragionando sul fatto che i primi due quarti erano stati quasi da 50 per cui voglio dire era l'unico modo per avere un po' di benzina e un po' di energia Al di là della stanchezza, da un lato avete oggi vinto nel finale e l'altro giorno Monaco recuperato la partita nel finale Per oggi parecchie ombre, al di là della fame e della necessità della Vanoli di vincere questa partita Parecchie ombre? I passaggi a vuoto importanti, dal punto di vista della squadra Secondo me i passaggi a vuoto sono stati nella seconda metà del primo quarto ma perché eravamo stati troppo bravi nei primi cinque e perché comunque la Vanoli ha tanta qualità e quando la Vanoli può correre fa qualcosa di importante è venuto fuori e poi nell'approccio nel terzo quarto però io tante ombre non le ho viste sono sincero nel senso che forse perché ho molto rispetto della Vanoli forse perché so che comunque non è facile nel momento in cui vieni via il giovedì sera fai al lamento venerdì e sabato riparti forse averci quella testa diciamo così intensa, così attiva in funzione del fatto che poi mercoledì devi già giocare una partita di quel peso non lo so, metto insieme tutte le varie cose probabilmente devo rivederla, forse hai ragione di te che sei più fareddo rispetto a me però ti dico, secondo me la seconda parte del primo quarto l'abbiamo bucata ma perché eravamo stati più bravi nei primi cinque la prossima parte del terzo quarto abbiamo fatto fatica forse non eravamo così intensi, così veri, loro erano molto addosso a Lessi e quindi questo è il problema, però voglio dire non ho visto tante ombre, ho visto una squadra che ci tiene tanto una squadra che si fa il mazzo, una squadra che nel quarto quarto quando ha deciso di tappare il canestro l'ha tappato e per me dobbiamo partire da quello per poi avere un buon futuro ma quanto è importante giocare con Lessi e Lighty assieme? cioè ti danno difese, energia, attaccano il ferro, poi hai fatto anche triple sono dei giocatori che hanno una grande capacità di intercambiabilità nel senso che Lighty può marcare la palla, Lessi può marcare la palla però nel processo Lighty può marcare il quattro, il tre e anche Lessi può marcare il tre e secondo me questa è una cosa che specie quando arrivi nel fondo della stagione e devi inventare qualcosa di nuovo ti può dare una mano è chiaro che è una situazione dove la puoi fare, cioè devi utilizzarli non dobbiamo partire dal presupposto che stasera in due hanno fatto 43 punti dobbiamo partire dal presupposto che comunque in due ci hanno tanta energia ci danno qualità e questa per me è la cosa più importante sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tecnico abbiamo fatidato un po' a trovare l'uomo in profondità, lungo colpa nostra per la lentezza del giro palla o bravi loro a mettere sempre pressione? penso sempre che la verità stia in mezzo alla fine i primi 15 minuti abbiamo avuto una buona profondità perché la valle era molto presente sui blocchi, sui roll era molto presente poi dopo nella seconda parte della partita diciamo che il campo è diventato più piccolo, più stretto è diventato una pallacanestro più perimetrale, la valle è vestita completamente di partita e a quel punto lì con l'assetto pesante e con l'idecca la sotto secondo me pagava di più creare triangoli sulla Todebo per crearsi il tiro per cui è stato un discorso di scelta c'è a dire che loro comunque l'arena riempiono molto bene spostando vorrei uscire un attimo dal punteggio per tornare alla realtà questa partita Sassarino ha persa poi nell'ultimo minuto Donona gli va regalare però voglio dire noi siamo in una condizione in questo momento che abbiamo fatto tre mesi e mezzo di rincorsa incredibile perché abbiamo perso quattro partite, due in coppa e due in campionato che sono finite con delle carambole, che sono finite con delle palle spizzate e abbiamo lavorato tre mesi e mezzo per tornare dentro questa è la pallacanestro è evidente che è una situazione dove Cremona in quel momento aveva il pallino in mano però io devo guardare il mio lato il mio lato devo dire che abbiamo fatto tre grandi difese siamo stati molto presenti poi la pallacanestro è fatta di episodi e delle volte ti va bene e delle volte va male questo è chiaro se chiedi un commento sugli arbitri commento sugli arbitri io ti dico onestamente che e l'avrei detto lo stesso anche se avessimo perso io penso che non siano parte facili da dover arbitrare io penso che a un certo punto l'intensità se l'intensità difensiva parte ed è già altissima anche per gli arbitri diventa semplice mentre invece parliamo di una partita che per 27-28 minuti e su questo sono d'accordo con voi non c'è stata una grande intensità difensiva poi cosa succede? che a quel punto di si alza chiaramente ci sono altre delle situazioni dove sia noi che Cremona abbiamo contestato evidentemente una cosa scena voi fate ridurre i quali arbitri normalmente esiste in qualche modo come dire un input per cui c'era una regola del vantaggio visto i tanti quali avete a campo cercate e non rischiate lo chiedo senza nessun tipo di ironia lo chiedo in maniera molto semplice quello che lo chiedi no no tu hai perfettamente ragione nel senso che mi sono molto lamentato primo, secondo, quarto secondo me sono almeno due o tre situazioni dove noi volevamo loro volevano no 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 è una cosa che è una cosa che è capitata oggi è una cosa che sta capitando è una cosa che secondo me è molto legata all'intensità della parte che crei perché questo l'abbiamo visto anche a livello di Champions League noi siamo passati da degli arbitraggi che erano veramente modesti ha dei buoni arbitraggi e io ci metto e lo dicevo anche con i miei assistenti ci metto all'interno il fatto che stranamente si è alzata l'intensità e loro hanno migliorato allora penso che sia la stessa cosa onestamente ti dico un 48 a 49 come è successo oggi all'intervallo in una stazione dove comunque il tiriere è incomodi sia per Sassi che per Camona fa sì che vai all'intervallo e magari nemmeno per loro è facile di fare un restart intenso dal punto di vista dei chiamati poi non è la giustificazione non c'è un'applicazione quando ha modificato no 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 è una cosa che non funziona così scusate poi sai mi rendo conto neanche il loro mestiere è tanto semplice in questa mente io sono uno che cerco di dar fastidio agli arbitri come facciamo tutti noi della categoria ma è una maniera in cui cerco anche di capire la difficoltà del ruolo e me ne ho conto che certe partite un po' ti fregano da questo punto di vista perché parti con questa intensità poi si alza e andare a modificare il metodo non è facile tutto qua una parola su Monaldi molto bene ma è difficile dirlo perché alla fine conti mi sembro mi rendo conto che non è so giustificabile però siamo sempre lì io penso che la nostra squadra sia una squadra che sia a rotazioni troppo lunghe cioè se va oltre i 10 giocatori rischiamo di mettere in confusione quelli che sono i 10 protagonisti il discorso di Diego Monaldi ve lo dico dall'inizio dell'anno secondo me è un giocatore fatto e finito un giocatore che in queste squadre Serie A giocherebbe tanti minuti stasera mi serviva per un discorso di riequilibrio fisico-atletico di quelli che sono un pochino più spremuti ultimamente era pronto ha giocato bene ma mi sorprende giusto lo vedo ogni giorno in allenamento è un giocatore che non ti rendi mai conto che è l'undicesimo e che non gioca tre mesi Buonasera a tutti Buon lavoro